Siamo in compagnia del ingegner Gianluca Giaconia, vicepresidente dell'Associazione Italiana Ingegneri Clinici. Oggi è un momento importante, Regione Campania, Ingegneri Clinici, un punto di partenza ma anche un punto di avvio. Assolutamente, se guardo la situazione dieci anni fa in Regione Campania era completamente diversa, servizi di ingegneria clinica non c'erano, i rapporti con la Regione non erano così stretti, oggi siamo sicuramente in una situazione completamente diversa. È comunque un punto di inizio, bisogna comunque continuare ad avere questi rapporti stretti, la presenza di ingegneri nei tavoli regionali deve essere sempre più rappresentativa, non bisogna assolutamente smettere di assumere professionalità nell'ambito di ingegneria della clinica all'interno delle strutture. Oggi molte strutture di ingegneria in campagna sono strutture complesse e questo è davvero un bel risultato, non tutte, bisogna continuare ancora in questa direzione. Naturalmente all'indomani della pandemia sono aumentate anche le esigenze e comunque le prospettive tecnologiche si sono fatte sempre più incessanti. Sì, assolutamente, anzi la pandemia forse è stato uno di quei momenti in cui si è capito che la figura dell'ingegneria clinica era strategica all'interno delle aziende, questo arrivo di tantissima tecnologia perché poi in quel periodo dove davvero da più fronti arrivavano tecnologie doveva essere gestita, a parte essere messa in funzione banalmente ma anche poi rendi contata documentata, messa in un piano di manutenzione. Lì sicuramente è stato uno dei momenti cruciali dove la figura dell'ingegneria clinica ha dato il meglio. In Regione Campania abbiamo avuto una risposta davvero ottima da tutti i vari cove d'ospital e chiunque abbia gestito casi covid in Campania. Quindi sì, quello è stato forse un momento di svolta in cui tutti si sono un po' accorti come è importante la figura dell'ingegneria clinica. Grazie a tutti.